Bene il potenziamento della metropolitana, annunciata dal comune di Salerno, perché il caos che si registra in città per così tante settimane mette a dura prova soprattutto i residenti. Ma i commercianti di via mercanti e delle stradine del centro storico, impazienti all'assalto dei turisti in arrivo per luci d'artista, ad Otto Channel sottolineano anche altri aspetti che andrebbero migliorati, a cominciare dall'attenzione alla salute delle persone fino al decoro urbano. I controlli possono solo dare un aiuto anche alle persone, farle arrivare con la metro e non con le auto a Salerno è la migliore soluzione per far sì che poi dopo loro possano passeggiare per le nostre strade. Ci vorrebbe più controllo proprio quando riguarda anche le guardie municipali, i vigili e tutto, e poi le strade essendo molto strette ci vorrebbe anche qualche consiglio per delle strade secondarie o qualche coinvolgimento anche ai lati di sotto, ai lati di sopra, così da avviare quel flusso massiccio che si concede in questo tratto qui. Evitare insomma l'imbuto che si crea? L'imbuto che è molto pericoloso e poi secondo me ci vorrebbe anche un altro introito in più che rappresenterà anche o ambulanze o guardie mediche in zona. Il traffico è quello che è, non si può uscire di casa, specialmente il sabato e la domenica, però per quanto riguarda il resto va tutto bene. Lei risiede qui quindi? Io abito in Piazza Duomo e l'unica cosa che mi lamento è che Piazza Duomo trovo un po' poverile come illuminazione. Le luci sono molto belle, è indubbio che attirino molte persone, però sì, fare qualcosina per il problema traffico, per il problema strade non perfettamente pulite, anche un po' di manutenzione strade, non sarebbe male, cioè invoglierebbe ancora di più a creare un sistema migliore, insomma, anche per fruire al 100% della bellezza che le luci oggettivamente suono. Grazie. Grazie. Grazie.